uomo 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 del terzo millennio ma fedele al primo ventennio ardito e virile amante della patria che sventola il vessillo collettore in pugno in curva tutte le domeniche ti chiamiamo a raccolta per partecipare coattamente e forzatamente a italico bullismo italico bullismo con rega d'eroi che si fan forti nel mucchio vessando il debole il comunista italico bullismo bivacco di manipoli che trae giovamento dalla sofferenza del diverso italico bullismo mischia di centuria memoria che rievoca la gloria delle pugne dei gladiatori contro leoni schiavi di roma e negri italico bullismo per la patria la gloria e anche per riempire venti minuti di studio aperto